Sono 1110 nuovi casi di positività al covid-19 registrati in Campania. Su 32.134 test analizzati, 8 nuove dicessi inseriti nel report diffuso dall'unità di crisi della regione Campania. Negli ospedali della regione sono 21 i pazienti covid ricoverati in terapia intensiva e 309 i pazienti covid ricoverati nei reparti di degenza. Su questo argomento e sulle prossime decisioni che saranno assunte dai sindaci, dai presidenti delle regioni relativamente all'aumento dei casi covid abbiamo incontrato il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Sentiamo. Ma guardi Milano oggi ha dato come indicazione obbligatoria la mascherina all'aperto. Noi già la praticiamo a Benevento però negli ultimi tempi come io dico un allentamento di tensione e quindi domani facciamo un incontro tra tutti per vedere come stabilire le condizioni per cui dal 6 dicembre anche noi siamo predisposti a quanto ha deciso il governo. Negli autos urbani che sia a minore intensità di presenza, faremo delle cose anche nel centro della città, anche manifestazioni che verranno, speriamo che arrivino ognuno godendo dal proprio punto di vista però con la possibilità di evitare quello che deve essere evitato. Quindi avete tutti gli strumenti necessari, distanziamento, mascherine, poi fate il vaccino, terza dose di vaccino, fate la scorsa di vaccino a tutti, fate l'antifluenzale a tutti, questo è molto molto importante. Se vogliamo scamparla perché come si è visto in zone europee, che sono zone europee molto importanti, la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, non parliamo dei paesi dell'est, purtroppo siamo in presenza di una grande tragedia, siamo alla quarta ondata, pensate che in Israele sembra che siamo alla quinta ondata, per cui come sanno gli storici purtroppo le pandemie non durano assolutamente poco, bisogna vivere e convivere con questo, però ci sono gli strumenti, il vaccino è uno di questi per cui respingere l'assalto del virus. In rialzo il numero di positivi ricoverati nei reparti Covid-19 dell'azienda ospedalire Sampio di Benevento, complessivamente sono 23, due in più rispetto alla giornata di mercoledì, 14 sanniti e 9 di altre province, 10 sono ricoverati in pneumologia subintensiva e 13 malattie infettive. Una delegazione composta da un mix di componenti dell'Aggiunta del Sindaco Clemente Mastella, del Consiglio e dell'Ufficio Tecnico, ha partecipato alla conferenza di presentazione del bando PNRR, Programma Sicuro Verde e Sociale di Qualificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica, pubblicato lo scorso 16 novembre con l'obiettivo di realizzare interventi per la sicurezza sismica, l'efficientamento energetico e la valorizzazione delle aree verdi degli alloggi di ERP. L'incontro con il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l'assessore di Scepolo e il Presidente del Lanci Marino è stato molto interessante per affrontare la nuova sfida che vede protagonisti tutti i comuni della Regione Campania che per la prima volta vengono chiamati ad un'assunzione di grande responsabilità per una futura rigenerazione urbana vicina alle categorie più fragili destinata a migliorare anche il benessere ambientale degli spazi pubblici. Anche il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ha voluto dare un segnale di sensibilizzazione colorando simbolicamente di arancione la caserma di Via Mio Martini. Nell'occasione di riferimento alla provincia di Benevento sono stati ufficializzati anche alcuni dati. Nel 2019 sono state registrate complessivamente 105 denunce per violenza di genere e reati connessi che hanno portato all'arresto di 12 persone e 65 soggetti denunciati in stato di libertà. Nel 2020 120 denunce di violenza con 27 arresti e 85 denunciati. Nel 2021 fino al 24 novembre 89 denunce con 18 arresti e 89 denunciati. Celebrata anche nel Capoluvo Sanita la giornata contro la violenza sulle donne organizzata da questura, Rotary Club, Inner Wheel Club e consulta delle donne. Tre i punti focali della città in cui si sono svolte manifestazioni per sensibilizzare contro la violenza di genere. La panchina rossa nei pressi del tribunale per ricordare le donne decedute per mano dell'uomo Corso Garibaldi dove è stato allestito un camper da parte della questura di Benevento per promuovere ed informare il cittadino, in particolar modo le donne sulla violenza di genere e Piazza Santa Sofia dove la compagnia di balletto diretta da Carmen Castiello ha organizzato uno show di danza per sensibilizzare al rispetto nei confronti della figura femminile. Presente in autorità civili e militari per celebrare questa importante giornata del 25 novembre come il questore di Benevento Edgardo Giobbi la presidente del Rotary Club Enza Casarella. L'istituto comprensivo Pascoli nell'ambito dei percorsi formativi di educazione civica ha messo in atto azioni didattiche volte alla sensibilizzazione degli alunni sulla tematica della violenza contro le donne. Oltre all'esecuzione di attività relative a lettura di articoli di giornali e testi letterari è stato anche creato l'albero del rispetto in installazioni in legno sulla quale i ragazzi hanno posto fiocchi rosa e alla base scarpette rosse. Gli alunni, i docenti e il personale tutto hanno indossato un fiocco rosso quale simbolo della giornata internazionale contro la violenza su le donne. Ma sentiamo la dirigente scolastica e due alunne dell'istituto comprensivo Giovanni Pascoli. Nell'ambito del percorso formativo di educazione civica noi abbiamo scelto delle tematiche su quale focalizzare i nostri interventi educativi e uno di questi è appunto l'educazione ai corretti rapporti interpersonali e soprattutto al rispetto di genere, ai corretti rapporti fra uomo e donna. Ora questa è una tematica che noi sappiamo purtroppo ancora attuale, quindi noi siamo convinti come scuola che l'intervento educativo debba cominciare già con i ragazzi in tenere età, perché si tratta di cambiare proprio una mentalità, di favorire anche l'eliminazione di alcuni retaggi che possono ancora essere delle sacche di resistenza all'interno della mentalità di un contesto territoriale. Quindi noi agiamo sui giovani che sono poi cittadini domani e abbiamo fatto un'opera di sensibilizzazione. I ragazzi hanno realizzato questo albero, questo è un aspetto simbolico, l'albero con i fiocchi rossi che oggi tutti noi infatti indossiamo, le docenti tutti indossano il fiocco rosso e le scarpette rosse. Ovviamente questo è soltanto un lavoro finale di tutto un percorso educativo in cui vengono affrontate le varie tematiche legate alla violenza contro le donne. Io sono contenta che la nostra scuola abbia aderito a questa giornata contro la violenza sulle donne perché è un argomento di attualità e quindi noi giovani dobbiamo contribuire, dobbiamo riflettere insieme perché noi siamo il futuro e quindi non deve riaccadere. Anche io in realtà penso la stessa cosa perché comunque non è che in una coppia l'uomo non può trattare la donna come un oggetto perché non è alla fine proprietà dell'uomo e ci deve essere rispetto sempre da parte di entrambi e quindi appunto noi siamo il futuro quindi dobbiamo fare in modo che non riaccadda in futuro questa cosa e dobbiamo dare un esempio tra virgolette alla non violenza. Venerdì si terrà la settima giornata di studi promossa dalle cattedre di diritto ecclesiastico e canonico dell'Università Giustino Fortunato di Benevento. Tema della giornata di studi diritto e giustizia penale tra riforme e società interculturali. Abbiamo incontrato il professor Paolo Palumbo straordinario di diritto ecclesiastico e canonico dell'Unifortunato e promotore della giornata di studi. Il tema di quest'anno della giornata che si terrà venerdì 26 novembre presso l'Università Giustino Fortunato ma anche con la possibilità di partecipare in streaming è diritto e giustizia penale tra riforme e società interculturali. L'idea è stata un po' quella di fare una riflessione sulle riforme in atto e quelle già che ci sono state nel tema del diritto e della giustizia penale. Il 18 ottobre di quest'anno è entrata in vigore la riforma della giustizia penale italiana. L'8 dicembre entrerà in vigore la riforma del diritto penale canonico e ormai da alcuni anni c'è un'opera di riforma della giustizia vaticana in modo particolare nel settore penale che Papa Francesco sta conducendo e negli ultimi anni c'è stata una intensificazione. Allora sarà l'occasione la giornata del 26 novembre per mettere insieme esperti e relatori di questi diversi ambiti che affronteranno come queste riforme stanno insistendo sui diversi ordinamenti giuridici statale canonico e vaticano e poi nel pomeriggio una tavola rotonda per affrontare il rapporto tra cultura, cultura e diritto penale cioè vedere come dal punto di vista giuridico e giurisprudenziale le questioni legate al diritto penale entrano nell'ambito e condizionano l'ambito della vita delle società che sono sempre più diventate interculturali e interreligiose e quindi parleremo di reati culturalmente motivati di codici culturali e libertà matrimoniale e affronteremo anche più in generale il tema della cultura, della prevenzione in modo particolare sul tema della tutela del soggetto debole, dei minori e quindi toccheremo anche il tema dell'abuso sui minori e della prevenzione in ambito tanto statale quanto canonico e vaticano. Ringrazio l'Università Giustino Fortunato che ancora una volta permette l'organizzazione di queste giornate che riprendono dopo lo stop forzato dello scorso anno le tante sigle, le tante istituzioni che vi partecipano e che collaborano e naturalmente i tanti relatori che ancora una volta con la loro preziosa presenza renderanno speciale la giornata di venerdì 26. Dopo la positiva esperienza del lab vaccinale delle attività economiche e produttive di Ponte Valentino Confindustria e Asla ripropongono il modello di sinergia che ha avuto già risultati importanti nella campagna di prevenzione oncologica in linea con le direttive della regione Campania che vedrà due importanti tappe realizzate grazie al sistema imprenditoriale. Il primo di due appuntamenti promossi da Confindustria è per il 26 novembre a Limatola presso l'azienda Cosmind SRL. L'assessore con delega all'istruzione Maria Carmela Serluca ha inviato una nota al presidente dell'organismo straordinario di liquidazione relativamente alla questione dei contributi per l'acquisto dei libri scolastici per l'annualità 2015-2016 che a distanza di cinque anni ancora non sono stati corrisposti ai nuclei familiari beneficiari. Ritengo che non sia assolutamente giusto ha dichiarato l'assessore Serluca che per un eccesso di burocrazia ben 882 nuclei familiari a distanza di cinque anni continuino ad attendere un misero contributo per l'acquisto dei libri. Ancor più assurdo mi sembra l'ipotesi che gli stessi per ottenerlo debbano sottoporsi all'ennesima via Crucis presentando l'istanza di insinuazione al passivo e con la necessità di richiedere apposita attestazione da parte dell'ufficio di istruzione. Tra l'altro l'OSL se non vuole creare ulteriori disagi a cittadini può procedere immediatamente alla liquidazione del contributo poiché è in possesso sia della lista dei beneficiari che della montata del contributo. Il responsabile dell'ufficio elettorale Maria Luisa Dovetto ha preso atto del parere rilasciato dalla Commissione di Garanzia degli Statuti per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici e in merito alle norme relative alla pubblicazione del curriculum vitae e del casellario giudiziale di ciascun candidato alla tornata elettorale ha quindi precisato la loro applicazione per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento. Tale pubblicazione va fatta sul sito internet di riferimento del partito movimento politico partecipante alla competizione elettorale e entro il quattordicesimo giorno antecedente la stessa data delle elezioni fissate come è noto per il 18 dicembre 2021. Giovedì 25 novembre Taglio del Nastro che ha sancito la nuova sfida imprenditoriale nel mondo della ristorazione per due giovani di Benevento. In Via dei Mulini 32 è stato inaugurato il ristorante e pezzeria Antoel che resterà aperto a pranzo e cena tutti i giorni con pietanze di qualità e menu dedicati come hanno raccontato a TV7 i due protagonisti di questa nuova avventura nel mondo della ristorazione sanita. Sentiamo cosa hanno dichiarato. Questa idea già era nei nostri pensieri da un bel po'. Poi siamo riusciti a trovare il locale ci siamo organizzati abbiamo intrapreso questa strada ed oggi ci ritroviamo qui ad aprire questa ad inaugurare questa nuova attività. Ecco raccontiamo un attimo ai nostri telespettatori di cosa si tratta di una pizzeria e poi? Si tratta di una pizzeria e di un ristorante che utilizzerà prodotti della zona però impiattati messi diciamo diversamente nel piatto non buttati lì giusto lì Con maggiore cura Si con maggiore cura attenzione e oltre ai primi secondi anche faremo dei panini panini gourmet anche le pizze saranno pizze normali gourmet insalate diciamo che abbracciamo la ristorazione a 360 gradi Ecco l'occhio di una donna e il gusto lo stile la sensibilità ci vuole sempre quindi una coppia che curerà questo cammino questa nuova sfida nel campo della ristorazione a Benevento per il momento sarete aperti sempre Si pranzo e cena con un menù fisso anche a pranzo per i lavoratori menù veloce e facciamo anche comunque la carta sia pranzo che cena Benissimo perfetto ho visto anche dei buoni vini che accompagneranno Sì la nostra cantina diciamo è un po' sparsa dal sud dal Beneventano Avellinese poi Casertano poi andremo al nord come Alto Adige Toscana diciamo abbracciamo un po' una tipologia di vini di tutta tutta l'Italia quindi quelli i migliori i migliori certo 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 i migliori grazie mille grazie grazie Gli studenti del liceo classico Pietro Giannone di Benevento i rappresentanti di istituto Roberta Bovio Fabrizio Bello Giorgia Lucca e Alina Caruso la dirigente scolastica Teresa De Vito e tutto il corpo docenti si uniscono in questo particolare giorno affinché la tematica della violenza contro le donne possa essere affrontata nelle scuole con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica il 25 novembre è stato scelto come giornata simbolo della battaglia contro il femminicidio e contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne gli studenti del liceo classico Giannone si sono impegnati con l'aiuto dei loro docenti nell'organizzazione di interventi tesi a commemorare la giornata internazionale che ogni anno viene dedicata al fenomeno purtroppo ancora in costante crescita tutti gli studenti vestiti simbolicamente di rosso hanno trascorso la giornata del 25 novembre illustrando letture canzoni, testi per sottolineare l'attenzione che ancora oggi merita l'argomento facendo sì che le voci delle vittime non cadano nella stessa indifferenza in cui continuano a soccombere bisogna essere garantissi sempre con chiunque e non a corrente alternata o a seconda se in vicenda giudiziaria è coinvolto un compagno o un avversario il PD Sannita ancora una volta evidenzia un doppio pesismo morale fuori dal comune così la segreteria provinciale di noi campani che replica al Partito Democratico sulle questioni della provincia il sindaco Mastella ha detto la sacrosanta verità ma come si fa a guardare la pagliuzza nell'occhio altrui e non la trave nel proprio il Partito Democratico ha decine e decine di propri esponenti coinvolti in vicende giudiziarie ben più gravi di quelle che hanno colpito in fase cautelare il presidente di Maria e addirittura quello Sannita si erge a titolare della patente di moralità il segretario provinciale uscente arrestato nella stessa vicenda di Maria c'è un autorevole dirigente del PD indagato altri che sono stati del PD coinvolti il parlamentare locale del PD Umberto del Basso di Carlo rinviato a giudizio per la strada interporto Maddaloni Marcianise e potremmo anche continuare dicono da noi campani chi la butta in cacciara è proprio il Partito Democratico che vorrebbe utilizzare la vicenda di Maria per attaccare noi campani ma come ha detto il nostro leader Clemente Mastella questo atteggiamento è moralmente inaccettabile deprecabile e soprattutto disprezzabile la mia incondizionata solidarietà a Franco Nardone già segretario e direttore generale presso l'amministrazione provinciale di Benevento per il coraggio avuto nel denunciare fatti di cui era direttamente a conoscenza lo scrive Italo Palumbo della segreteria regionale del PD al di là delle questioni giudiziarie che avranno nel loro corso vi è da sottolineare che Franco Nardone è stato uomo dell'istituzione integerrimo egli ha svolto la sua funzione in diverse realtà istituzionali del paese con competenze e capacità riconosciute a lui va il rispetto e il comune ringraziamento degli uomini e delle donne libere che non si legano ai carrozzoni politici per clientele e favori conclude Italo Palumbo componente della segreteria regionale del PD ai sanniti è arrivato il Black Friday dal 26 al 28 novembre nei negozi del centro potrai trovare tantissimi prodotti in sconto al 20% 30% 50% fino al 70% cosa aspetti buttati a capofitto in un mare di offerte strepitose venerdì alle ore 21 ritorna il format calcistico anteprima Benevento per analizzare il momento negativo della squadra di Fabio Caserta alla vigilia della delicata sfida contro la regina tre punti che i giallorossi non possono assolutamente permettersi di non centrare tanti temi della puntata condotta da Antonio De Cristoforo che con la sua squadra farà il punto sulla crisi di gioco e dei risultati del Benevento Calcio è tutto con questa notizia vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone